Vorrei cambiare la testa delle persone. Guardate, io prima di venire qui ho letto, il Presidente infatti conoscendolo sapevo che non avrebbe resistito. Ci sono i sindacati della Regione di Caserta che hanno fatto un comunicato perché il nuovo direttore lavora troppo, sta affiantando in ufficio il sole a mentale. Rezzi ha risposto, siete ridicoli, è finita la pacchia gli ha scritto. Io non lo so, voglio fare politica, ma ho fatto politica a lungo, nel senso sempre da una parte precisa che è l'area liberale prima dei DS e poi del PD e ho preso tante botte nei denti quando vedevo i sindacati dire queste cose, io non resistevo, li mandavo a quel paese e mi si diceva no, bisogna sempre dare ragione ai sindacati, ma anche quando si lamentano perché il direttore lavora e quindi potete forse solo immaginare quello che io provi quando vedo il segretario del mio partito, il Presidente del Consiglio che li manda, diamo quando ti fanno un comunicato per dire ma questo non può stare fino a tardi in ufficio.